Io sono Arianna, ma questo lo sapete già, e sono sicura che di me sappiate, pensiate di sapere molte cose. Non hai capito questo pescazzo? Voi lo sapete perché vi ho convocato qui? Ti rendi conto della gravità della situazione, no? Professore, a me è quello che dice lei, no? Non me ne prega niente. E' la mia, non la tua, la mia! Ma che cazzo c'è stato scritto fa, eh? Che cazzo c'è stato scritto fa, leggi bene, eh? Ma è stato insieme a me? Ah, non c'è idea, no? Professore, fai like che è la base per guidare il paese. L'uomo devi fare, ti piace esserlo? All'uomo, all'uomo. Senti, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, state zitta, voi! Anzi, sei in grosso, sei in grosso, cazzo! No, vabbè! So rise in the end, so light here to lay, angel come again, in my desire. I am... Grazie a tutti.